Hai sicuramente sentito parlare di chakra, ma cosa sono veramente? Abbiamo visto nello scorso video come l'essere umano, oltre al corpo fisico, possegga altri veicoli composti da materia ed energie sottili. Infatti abbiamo parlato del corpo eterico, descritto nel libro di Arthur Powell, il doppio eterico. I chakra, dal sanscrito ruota o dischi rotanti, sono come veri e propri organi del nostro corpo eterico, con la duplice funzione di assorbire e distribuire l'energia vitale al corpo eterico e ad ogni organo del nostro corpo umano. I chakra distribuiscono le diverse qualità di prana attraverso le nadi, dal sanscrito tubi, detti anche canali energetici. Nel prossimo video elencheremo passo passo ognuno di questi 7 chakra principali, le loro caratteristiche e come svilupparli. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video.